e inizia la fuga ragazzi e quindi un'altra barco ci attacchiamo al cazzo ok siamo arrivati ad un altro campo qui dove per ora non c'è nessuno solo pioggia ma qua ci siamo stati con no non ci siamo stati con con il scherzo con inghietto pensavo ma no non è il crest ok tornati tutti insieme qua dentro c'è qualcosa citro e dardi l'alcol mitico integratori pezzi 17 integratori ok non so mica male fatemi vedere un attimo 61 infatti buono questo quelli che sono rimasti in realtà non è che mattino è più di tanto è di potenziamenti bene sono solo stanca mamma credeva con tutto il cuore lo so allora perché è avuta così la fede non rende immortale già la vita è segnata da perdite non ci guida lupi quindi noi qualcosa qua sul mobile no grazie lo sapevo che poi sono gli amici di Abby alla fine è tanto che non combattiamo col vlf tutto questo per una munizione sola pensate un po' presto lo decido io chiaro? ma quelle persone hanno bisogno d'aiuto non possiamo fare niente lo so da me ok oddio non possiamo restare qui poi ha fatto un giro largo non si sa mai Abby di qua integratoris nastrus pezzis munizioni anzi pezzi ancora c'è un modo per evitarli si proviamo a cambiare strada affinché chill così chill vabbè va per di ma va bene eh tanto i dardi li ho recuperati tutti e cinque quindi sono a posto vediamo adesso ok qua questa città messa così proprio the last of us al 100% eh anzi al 120% devi aiutarci eh grazie al cazzo se no chi va aiuta coraggio sono ancora qui non lo so non firmarti una lampada male non fa non mi sorprenderebbe ci fosse qualche infetto sapete a parte l'isola dei serafiti non so non credo sarà già stata ripulita no no vabbè assurdo no no ha ammazzato Yara Yara ti prego lepre dobbiamo andare no no vedo qualcuno non posso lasciarla qui indietro cercala subito porca troia happy ho detto indietro state fermi Isaac Isaac che diavolo stai facendo quello che mi pare devi starmi a sentire perché ho posato l'arma chi è quello di dietro gli devo la vita togliti con te faremo i conti a casa non è bello ora ti prego happy spostati Cristo è solo un bambino ti do tre secondi per allontanarti da quella iena uno vuoi spararmi due non mi sposto cazzo sparo e no oh godo addio Isaac brava Abby brava adesso c'è tutte e due le fazioni contro di te fantastico questa è la cosa più ricorrente del gioco ovvero spostare i mobili davanti le porte è morta oh mio dio è morta leva andiamo quella era la tua gente sei tu la mia gente no ascolta dobbiamo batterci per uscire da qui ho bisogno che tu mi porti a quelle barche nessuno ci deve fermare ok 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 seguimi seguimi ho bisogno che tu mi porti le barche e poi seguimi c'ha senso raga non è che voglio fare il guastafeste però c'è mi devi portare là però seguimi mi porti a mangiare fuori la pizza seguimi c'è non c'ha senso raga vabbè salire qui e poi qui e adesso sarà una bella battaglia piuttosto lunga ragazzi qua ci sarà sicuramente il VLF eccolo là ok ok l'acqua può funzionare bravo Lev bravissimo bravissimo Lev bravissimo cazzo ho appena detto eh tanto che non si combatte contro il VLF ci mancava solo questo che non si schiodano da lì ragazzi bene godo loro di certo i fischi non li fanno ma sono meno 5 da battere l'hanno fatta fuori 8 con quelli che abbiamo già battuto i don't know what to do gola morto e questo è successo ok occhi aperti vieni qui ci muori muori oh merda sta arrivando sono ancora tre giusto eh pace ecco a situation complication raga vai vai anche Drew fatto fuori ancora altri tre palle spuntano fuori spuntano fuori diventate come funghi altri 4 vai ti stanno facendo pezzi beh chiediti perché vieni qua basta che uno non venga alla porta e siamo a posto scusate raga mi si è fermata la registrazione appena ucciso questo vabbè non dovevi aver fatto tanto buco comunque siamo sempre qui eh ancora 4 ragazzi non finiscono veramente più vieni fuori vabbè quelli che vengono fuori così va bene come fa a non vederlo vieni qui fuori cioè adesso anche basta cioè nel senso ok tutto però no nessuno mettiti animo in pace un altro che ascia dalla porta un altro che ascia dalla porta ti troveremo beh vieni che ti trovo prima io perché fa il giro stronza un culo testa ultimo dardo rimasto sono rimasti in due adesso vero? ma la merda se l'ha fermato ovviamente altri due no ha spiegato il dardo finiti i dardi raga andiamo a ricorrere al lancio a fiamme cheat chi è che mi stava per vedere scusa qua dovrò essere onesto un un silenziatore farebbe molto comodo un dardo buono può essere molto importante quanto non mi pecchi non mi pecchi cioè se mi peccherai forse ma vabbè dettaglioni oh no come l'ho preso raga masterclass questa masterclass assoluta nessuna traccia non c'è niente zero vieni qui prima torno indietro ti piglio eh zitto sembri un prete dalla faccia don soldato sono rimasti in due una volta per tutte eh brucia brucia godo vabbè l'ultimo deve essere di spettacolo non mi ha preso godo fine della storia credo penso e spero uh dobbiamo arrivare a questa porta cioè potremmo anche andarci in un altro modo però ok copri copri eh giò tu hai ucciso le iene e ho ucciso i lupi pensa un po' che roba da che parte più avanti c'è una stazione rapida possiamo tagliare da lì è lontano questo comunque poca benzina sprecata massima resa eh come la ha brustolito mi prende quella scala ok dai che ci siamo dai che ci siamo forse no oh bello quanti pezzi abbiamo eh 113 danni dai danni della doppietta dai se non è 80 dai 60 buono così meno quel click e le cose varie siamo a posto va bene sta bruciando tutto oh mio dio quella è sì quello che ne resta le dove sono le barche al molo oltre agli incendi ci conviene andare prima che le prendano tutte giusto sì non moriremmo su quest'isola lo so dobbiamo scendere laggiù e allora ci andremo qua si può scendere sì certo beh abbiamo scatenato una guerra proprio della madonna no 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 praticamente tutti contro tutte adesso veramente tutti contro tutti un po' come VLF contro clicker zitto ho preso lo so lo so l'ho visto l'ho visto beh ho fatto fuori un tipo e un altro insieme fantastico meno male che non mi poteva attaccare finchè non non finivo di uccidere quell'altro vieni qui ma vaffanculo ma con chi pensi di avere a che fare eh quella invece non l'ho calcolata oh grazie molto gentile chi ci sta? nessuno sono in trappola coprite la finestra e non siamo più contatti ok là c'è un VLF però stanno impegnati in altre cose il che non è neanche male perché comunque è l'ultima cosa che cagano poi quando ti cagano ti cagano il cazzo comunque però tipo così zitto bellissimo tutti contro tutti ci mancava poetico proprio chi è Lev? oddio che paura passi ma vecchia ogni tanto ti avverte beh non male tu se non ti ammazzo mi ritiro proprio bene così non si è accorto di nulla? da questa parte bastardo ok altra ascia merda c'è un cavallo deve essere una speranza una grossa speranza eh ho dovuto bravo Lev bravo testa è rimasta una sola da quel che vedo sì presa ok bene così non vedo nessuno non avevo calcolato non avevo calcolato quello che era dentro la cucina non avevo proprio minimamente calcolato infatti mi stavo ancullando malissimo ma credo che possiamo andare c'è rimasto qualcuno appeso ah 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 ma tanto guida lei ok è lui che ha chiesto lei ok via fuori dal cazzo fuori dal cazzo fuori dal cazzo bene così certo che le indicazioni sono molto precise uuuuh via dal cazzo bella sta fuga è meglio di quella di The Last of Us 1 disclaimer ma è così è veramente meglio tanto il cavallo morirà prima o poi perché è un classico nei videogiochi che il cavallo dopo un po' muore sparato di solito niente può fermarci niente può fermarci aspetta e vi lascia bruciate all'inferno lasciaci in pace ok fuori dal cazzo bene brava badono come l'ho presa grazie per darmi indicazioni Lev grazie grazie mille fuori il cavaliere uuuuh eh lo sapevo però non è morto scappa scappa è lì è il molo dobbiamo cavarcela da noi è in culo il molo è veramente in culo vabbè che il cavallo ci ha dato una grossa mano a parte dove è finito perché qua è tutto ricintato però vabbè alcol kit medici c'è no quindi per ora nulla facile bravi ecco che esplode non ha fatto un buff a nessuno cazzo è l'appostata e io passo tranquillamente vediamo un po' qui merda devo camminare con lancia fiamme io ecco con cosa devo camminare e vaffanculo e dai via kit medico se mi salvo ho fatto una cosa assurda e l'ho fatta via l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta ragazzi l'ho fatta ho fatto una cosa assurda questa strada qui non so cosa ho fatto perché non so spiegarvelo ma l'ho fatto camminare sulle travi neanche questo dobbiamo andarsene subito va Abby brava è merda brava via ho sparato la strada non ci voglio credere ok la sfonda la sfonda avanza minchia ma è bollente come cazzo fa a toccarlo c'è coraggio però questo ragazzino vai vai brava così come fai ad essere ancora in piedi questa non me l'aspettavo questa non me l'aspettavo ragazzi dai colpisci mi oh cazzo che botta mi ha dato quel simbolo comunista sta combattendo col simbolo comunista il simbolo comunista vinto ho vinto col simbolo comunista non ho vinto non ho vinto scherzo il comunismo non vince mai cazzo ma con tutte le briscole che ha preso non muore un botto di briscole e nulla godo adesso ha vinto il simbolo non ha vinto ancora non vince il comunismo non vince Lev fai qualcosa ha fatto niente il simbolo del comunismo ha aiutato ma non è il determinante per la vittoria cioè c'ha un dardo conficcato nel cuore ed è ancora vivo strappaglielo cazzo brava così non ha vinto il comunismo ha vinto la freccia direi che è il momento di darsi se damo cheat non sono finiti non c'ho più armi ragazzi senza zainetto niente c'ho solo Lev come arma posso usare Lev come scudo che cazzo barca bello andiamocene a remi per l'oceano atlantico certo via ok ce ne andiamo così che scena crudele ragazzi però è stata divertentissima penso tra le parti più divertenti di tutto il gioco la faremo a prendere una barca normale poveraccio 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 asterisco ed eccoci all'acquario di nuovo quindi il viaggio non era neanche così lungo in rinca l'acqua l'acqua la l'acqua 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 Non stiamo sotto la pioggia Sì E allora Siamo tornati all'acquario Ok dritti Qua dove tipo entrammo con E Lì Lei non c'ha più nulla Sponda Ho capito che scena trova Morta Alice Esatto Stammi dietro È stata qui È stata qui Ellie Ma non c'è nessuno In realtà sappiamo chi c'è Ma non è vivo Anzi non sono vivi Sangue Morti Mel e Owen Praticamente In una giornata ha perso Manny Mel e Owen E Yara Spatuto ha perso il suo ragazzo Cazzo Abbi Manny Manny Eh sì Finisce tristemente qui